Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video! Eccoci qui finalmente tornati e oggi come te visto il titolo faremo un bel unboxing di un nuovo pacco da Stationary Pal! Questo video infatti è in collaborazione con Stationary Pal che ringrazio di cuore per questo regalo e mi hanno inviato questo pacco con tantissime nuove cose che ho potuto scegliere e me l'hanno inviato in occasione di loro saldi primaverili infatti sul loro sito potete trovare tantissimi prodotti a sconto e tantissime nuove offerte ogni giorno oltre che anche a tantissimi nuovi prodotti questa spring sale è una grandissima occasione perché potete trovare veramente un sacco di cose in offerta vi invito quindi caldamente a visitare il sito di Stationary Pal, trovate il link qua sotto in descrizione assieme al mio codice sconto che è questo qui se ne volete usufruire assieme anche al link specifico di tutte le cose che state per vedere in questo video che io ho scelto e che non vedo l'ora di farvi vedere perché sono super emozionata e non vedo l'ora prima di iniziare e cambiare inquadratura vi ricordo solamente di seguirmi poi anche su tutti gli altri social che trovate sempre appunto qua sotto in descrizione per non perdervi tutti gli aggiornamenti in tempo reale tutte queste cosine all'opera perché le utilizzerò nei miei appunti e nelle mie agende ed in più anche i vari spoiler infatti se mi seguite appunto avrete già visto un piccolo spoiler del contenuto di questo pacco quindi detto tutte queste cose direi che è arrivato il momento di cambiare inquadratura andiamo sulla scrivania e partiamo con il video ok ed eccoci qui finalmente sulla mia scrivania prontissime a vedere questo pacco delle meraviglie alcune di queste cosine tra l'altro le ho già provate durante questi giorni così vi posso dire anche qualcosina di più e come mi sono trovata in inquadratura spostata direi che possiamo partire questa che vi sto facendo vedere è la carinissima cartolina che c'era e prima di mostrarvi le mie scelte vi faccio vedere anche questi carinissimi omaggi abbiamo la paperella e questo orzetto super carino due cappellini per le penne e un campanellino ed infine queste bellissime clip che tra l'altro sto adorando per fare le foto all'agenda e ovviamente su queste clip essendo in acrilico c'è questo strato da togliere e guardate quanto poi sono lucide sono bellissime adesso invece partiamo con le mie scelte ci tengo a specificare che io adesso vi farò vedere un po' insomma tutte le cosine che ho scelto e poi farò anche dei timelapse dove ve li faccio vedere in azione e vediamo tutte le cosine swatchate ho già pronto il mio quaderno degli swatch e ho anche pronta la mia agenda eccola qua e questo perché nel video mi piacerebbe anche farvi vedere un pochino come voglio utilizzare alcune cose che ho ricevuto e la prima cosa che ho deciso di mostrarvi è anche l'unica che non è a tema cancelleria perché come potete ben vedere è una cover per il telefono su stationery pile infatti hanno aggiunto anche un sacco di cover per telefoni, per airpods eccetera e quindi non ho resistito perché questa qui veramente mi ha catturato l'occhio è bianca e tutta brillantinosa guardate quanto è bella questo è il retro ed ha una bella protezione alle fotocamere infatti questa cosa adoro perché ho il terrore delle fotocamere e sul loro sito comunque potete trovare cover per vari tipi di telefono e ne hanno aggiunte un sacco super super carine quindi vi invito a vedere anche quella sezione e adesso passiamo agli stickers questa volta ho scelto due pacchetti sono entrambi lucidi anzitutto questo qui di My Melody che praticamente è una striscina lunghissima e guardate i brillantini orografici cioè adoro stoppate adesso se volete vederli di nuovo meglio comunque così almeno si vedono tutti e poi ho scelto quest'altro set di sticker che comprende tre fogliettini adesso ve li faccio vedere sui toni dei fiori e del viola vi faccio un po' vedere come sono fatti gli stickers però sono molto molto belli ce ne sono anche tantissimi vedete su ogni foglietto e ci sono anche in altri colori io ho scelto il viola perché mi piaceva di più adesso passiamo a questa bellissima matita e gomma sono entrambi della mono che è una linea della tambo se non sbaglio e ho preso questo lapis meccanico matita meccanica io lo chiamo lapis perché è dialetto di me melody ed è bellissimo io adoro questo lapis meccanico me lo porto sempre dietro in università ce l'ho è sempre della mono però è blu questo è decisamente molto molto più carino infatti non vedo l'ora di utilizzarlo ha la mina da 0.5 e dovrebbero esserci le hb dentro ecco qui da vicino come si presenta ditemi se non è adorabile da qui praticamente premendo così escono le mine e la punta è ad ago e poi tenendo premuto come in tutte le matite meccaniche viene in dentro la mina e nella parte qui in cima si deve girare e viene sulla gomma non ho resistito ma ho anche trovato le mine di me melody guardate quanto sono carine è una scatolina di mine hb da 0.5 perfette per questa matita meccanica e niente queste sono delle semplici mine ce n'è un sacco dentro quindi direi che sono a posto così me le posso portare dietro ed abbinare quindi alla matita meccanica sempre della linea mono ho preso anche la gommina eccola qui vista da vicino è super super adorabile mi saprà malissimo utilizzarla poi è tutta rosa cioè io adoro troppo e metterò tutto nel mio astuccio rigorosamente rosa sempre di stationary pal che mi porto sempre all'università ovvero questo qui che vi ho fatto vedere anche in un sacco di video rimanendo in tema my melody abbiamo queste altre tre cosine ovvero la pentel angel un quadernino e la penna stilografica o fontan pen come preferite chiamarla partiamo dalla penna della pentel se mi seguite da un po' sapete che queste qui con la punta da 0.5 ad ago sono le mie penne preferite in assoluto questa è la sua confezione super super carina adesso la apro e ve la faccio vedere ed eccola qui come si presenta questo è il corpo della penna è stupenda qui ha la parte rosa però me la sono provata qua la penna scrive in nero è da 0.5 e questa è la punta dopo ve la faccio vedere meglio in azione però sapete che le pentel io le adoro quindi lei vince già ho poi scelto questo quadernino che è veramente super super adorabile in questo formato A7 è della Sanrio e la marca è la Kimbor che è la stessa della mia altra agendina di my melody adesso la apro così ve la faccio vedere ecco qui come si presenta è veramente super adorabile è anche super morbido questo è il davanti il lato e questo è il dietro all'interno poi è fatto così a quadretti questa è la parte interna è super adorabile raga non ce la posso fare adoro troppo queste cose e sono tutte pagine fatte così vedete qua ci potete mettere la data insomma fare come volete e poi qua in fondo ci sono delle pagine totalmente bianche utili per magari fare qualche disegno o qualche cosina a cui non servono i quadretti e questa è la parte finale è veramente super carino e le pagine sono anche belle spesse come potete vedere è una carta bella spessa e poi come ultima cosa che vi ho fatto vedere in questa clip a tema a me è bello di la penna stilografica questa è meravigliosa non vedevo l'ora che mi arrivasse perché adoro troppo è stupenda e questa l'ho già utilizzata ampiamente nel mio formulario di elettronica che sto facendo vi faccio un po' vedere come è fatta all'interno oltre alla penna troverete anche 4 cartuccine di inchiostro blu ed eccole qua una non c'è appunto perché è già dentro la penna questo è il retro con il marchio della penna le cartucce penso di tenerle qui così almeno non le perdo ed ecco qua il corpicino è stupenda e questa è la punta e come si presenta è super super carina la punta è F ecco qua questo è il mio quaderno dove sto facendo il formulario di elettronica e qui è da quando l'ho iniziata ad utilizzare guardate quanto è bella eccola qui anche di nuovo in azione asciuga abbastanza in fretta mi piace un sacco vedete ci si può anche evidenziare sopra rimanendo in tema penne abbiamo un altro po' di cosine anzitutto vi faccio vedere quest'altra fountain pen super super carina eccola qua anche questa con la punta F fatta così e all'interno di questa sorta di provetta è veramente adorabile questa confezione questa è come si presenta la penna molto molto carina il colore è Sakura questa è una ricarica per l'inchiostro e dentro se non erro dovrebbe esserci comunque una cartuccia piena esatto eccola qua questa è una cartuccia di inchiostro nero prima di inserirla vi faccio vedere un attimo la punta che è questa qua molto molto carina anche con la stellina sopra eccola qui inserita adesso piano piano dovrebbe scendere l'inchiostro quindi dopo ve la farò vedere subitissimo e questa è la cartuccia di ricarica come vi dicevo che c'era all'interno dove qua va rimesso insomma un altro tipo di inchiostro e questo si può utilizzare più volte se non ho capito male successivamente abbiamo una penna endger della Pentel a tema BT21 anche questa appena l'ho vista è stato amore anche lei è di inchiostro nero ed è di quelle da 0.5 con la punta ad ago parlando sempre di penne gel abbiamo questa qua della Sarasa 3 in 1 praticamente è una penna vedete multicolore e invece di avere i soliti colori diciamo a sfera ha i colori in gel quindi questi tre sono tre colori gel e sono le tre penne gel classiche in nero in blu in rosso anche con le Sarasa mi trovo super super bene infatti ho deciso di scegliere questa penna così appunto posso portarmi più colori in giro e niente dopo la proveremo insieme e la vediamo un pochino però già adoro le Sarasa quindi sarà sicuramente ottima ho poi scelto questa penna anche questa l'ho già un pochino utilizzata fatta così della Disney con Topolino in cima c'era di tantissimi colori per ora l'ho scelta rosa e si chiama proprio Mickey and Minnie quindi è super adorabile e ha una doppia punta ha una punta fine fatta così e una più a pennarello fatta così e il bello di questa penna è che profuma infatti tutte queste penne hanno un profumo questa sta un pochino tipo di fragola poi abbiamo questa penna che sembra una normalissima penna appunto però in realtà è colla non l'ho ancora utilizzata dopo la andiamo a provare però praticamente da qui si leva questo tappino e poi invece che scrivere come una penna normale scrive la colla e poi ho preso queste tre cosine della Pilot sono due evidenziatori e una penna sembrano i classici evidenziatori barra penna che si cancellano ma in realtà quando voi cancellate vanno a cambiare colore questa penna è vedete blu scura e diventa di questo rosino chiaro color Sakura questo evidenziatore è rosa e una volta evidenziato diventa color pesca e la punta vedete è come i Pilot Frixion normali e questa qui invece è azzurra diciamo smeraldo e diventa color verdeacqua anche questi li ho già un pochino utilizzati però dopo ve li faccio vedere meglio in azione successivamente abbiamo queste Tambo Fudenosuke per chi mi segue da un po' comunque anche su Instagram sa che io utilizzo sempre e costantemente quella nera per scrivere i Today sulla mia agenda e questa cosa la faccio tutti i giorni quindi le uso praticamente sempre e hanno fatto da poco i colori pastello e quindi non ho resistito perché io amo i colori pastello e amo queste penne quindi combo perfetta e ho anche approfittato per prendere questi due colori il rosa e il grigio perché c'erano già questi colori più vibrant diciamo più accesi ma non li avevo mai presi quindi ho deciso intanto di provare due colori come un'ultima cosa abbiamo questi due pacchetti di evidenziatori che mi hanno incuriosito tantissimo per la forma e per il prezzo perché costavano veramente poco e ci sono questi due pacchetti da sei colori questi qua un po' più chiari e questi qui un pochino più accesi ve ne faccio intanto vedere uno poi tanto dopo li apro li provo e ve li faccio vedere meglio più avanti nel video però sono fatti così mi piaceva un sacco la forma perché sembrano non lo so delle caramelle e mi piace proprio il fatto che siano rotondi perché tutti gli evidenziatori sono un po' squadrati questi sono gli unici tondi tondi che ho sono carinissimi e poi sono anche dei bellissimi colori e non sono sempre i classici fluo i classici pastello ma sono un pochino più particolari e quindi tra pochissimo li proveremo insieme anche questi li ho già utilizzati un pochino in questi giorni mi sono piaciuti molto perché non sbavano la penna e non trapassano e infine come ultimissima cosa che ho scelto abbiamo queste pennine della Campus che mi hanno incuriosito tantissimo erano una novità che sono delle penne che hanno un timbrino da una parte con queste forme e poi hanno un fineliner dall'altra parte i colori sono questi qui che vedete molto molto tenui e carini ne faccio vedere uno a caso sono fatte così il corpo è bianco e questa è la proprio la penna come si presenta questa quindi è la parte con il timbro e devono un pochino asciugare una cosa che ho notato e questo è il lato del fineliner fatto così adesso che abbiamo visto quindi tutto il contenuto del pacco passiamo al timelapse e le piccole recensioni delle cosine almeno ve le faccio vedere un po' in azione e le piccole recensioni ed ecco qui intanto ho fatto questa piccola pagina dell'agenda decorata vi voglio far vedere in questa piccola clip come poter utilizzare questi bellissimi stickers perché mi piacevano un sacco e mi avevano ispirato tantissimo e ho fatto questa paginetta sul toni del viola questa la farò sul toni dell'azzurro perché questi so che in generale sono dei giorni dove appunto sono a lezione ripetizione danza quindi insomma non ho molto tempo per decorare o fare cose per me quindi di solito li decoro prima comunque mi piace un sacco fatemi sapere che cosa ne pensate partiamo quindi con questi carinissimi timbrini della campus ecco qui gli swatch visti un po' dal vivo dovete fare un po' di pressione per ottenere il timbro perfetto perché altrimenti vedete resta al buchino o non viene completo però ecco nulla di che basta un pochino premere ma guardate quanto sono carini questa è la confezione devo dire super super approvate mi piacciono un sacco passiamo quindi alle varie pennine partiamo con la prima che è questa qua 3 in 1 della Sarasa super carina nulla da dire perché adoro le Sarasa e quindi mi è piaciuta tantissimo e averne 3 in 1 è top quindi veramente adorabile la seconda dove c'è scritto Disney Pen è appunto questa pennina qua molto molto carina mi piace un sacco come scrive e poi profuma tantissimo quindi sicuramente prenderò anche altri colori abbiamo poi le due penne della Pentel quella di Memelody e dei BT21 anche qui nulla di particolare da dire perché adoro le Pentel e queste sono stupende l'unica cosa che cambia diciamo che è il packaging ed è sempre più carino quindi direi top prima di passare a queste tre penne partiamo con le ultime che sono le due fonta in penne quella in blu è questa qui di Memelody che mi è piaciuta tantissimo e l'ultima è questa qui color Sakura ho faticato un pochino a far uscire l'inchiostro però finalmente è uscito e mi è piaciuta moltissimo quindi anche loro super super approvate e sicuramente le continuerò ad utilizzare e adesso vi faccio vedere queste qua vi cambia un attimino l'inquadratura così si vede meglio eccoci qui vi voglio proprio far vedere in diretta come funzionano questi tre perché sono super carini allora la prima è questa penna qua che come vedete scrive in questo blu e potrebbe diventare color Sakura e idem questi qui appena li utilizzate questi sono i colori che si vedono adesso andrò a cancellare le varie cose ed ecco qui la magia però come potete vedere una volta cancellato succede questa cosa meravigliosa e fa questa sorta di magia bellissima ed è molto carino perché è un'idea molto comoda per avere magari due evidenziatori in uno senza doversene portare dietro magari cento e io con queste tre penne ho sei colori quindi devo dire super carina adoro soprattutto la penna perché è un'idea molto utile e comoda anche queste le ho utilizzate nei miei appunti vi faccio un attimo vedere ecco qua ho utilizzato vedete qui di evidenziatori per fare i separatori alle varie cose e qui ho usato la penna per separare vedete questi due casi tra lasciando l'argomento ho separato questi due casi una l'ho lasciata in blu e una poi l'ho colorata e l'ho fatta in rosa oppure qui ci ho fatto il riquadro insomma potete utilizzarle veramente in tantissimi modi e scrivono molto molto bene fatemi sapere che cosa ne pensate io le ho trovate molto molto simpatiche allora prima di farvi il timelapse però delle tambo fudenosuke andiamo a provare la penna con la colla attaccando questo post-it vedete qua nero sul quadernino perché voglio provare poi la tambo bianca e come potete ben vedere sembra abbiamo visto proprio una normalissima penna anzi assomiglia a un lapis meccanico e niente quindi teoricamente dovrebbe uscire la colla ah eccola esce già la colla praticamente vedete si vede pure quindi andiamo a metterla un pochino così a caso ovviamente non è per incollare fogli grossi ma per cosina appunto da scrapbooking barra journaling però proviamo a fare questa cosa e attacchiamo vediamo un po' adesso lo lascio un pochino seccare magari dopo che ho fatto tutti gli swatch eccetera andiamo a rivedere com'è messo adesso passiamo alle tambo fudenosuke allora qui sono rimasta veramente super felice non l'avevo ancora provate sul foglio nero quindi sono rimasta molto contenta e possiamo anche notare che la colla vedete ha iniziato a fare effetto e non si stacca a parte l'angolino che non ci avevo messo la colla vedete qua fa fatica a staccarsi quindi top quindi penna colla approvata anzi incolliamo subito questo angolino passiamo quindi dicevo alle tambo fudenosuke allora le prime due sono quella grigia e quella fucsia classiche sono molto carine nulla da dire perché le adoro e queste sono quelle pastello ovviamente sul bianco il bianco non si vede però guardate che effetto carino fa sul foglietto nero e sono tutte molto molto carine ecco qui adesso sono riuscita a metterlo meglio a fuoco si può vedere molto molto meglio il colore questo è il reale colore che ha questo viola comunque questi sono i colori sono molto molto carini sia sul foglio bianco che sul foglio nero se avete visto bene il timelapse questi qua non si vedevano subito una volta scritto sul foglio ma dopo che si sono asciugati e poi come ultima cosa abbiamo questi evidenziatori come potete vedere sono dei colori molto belli e anche molto particolari non sono i classici e soprattutto vanno molto molto bene sulla penna non hanno sbavato e questo è il secondo pacchettino personalmente preferisco il secondo pacchettino perché mi piacciono un po' di più i colori e sono un pochino più ricercati però mi piacciono veramente tutti che come vi dicevo adoro la forma quindi anche loro per il prezzo soprattutto anche super approvati sono ottimi funzionano bene costano poco quindi direi super approvati quindi allora queste erano tutte le cosine che c'erano nel nuovo pacco che mi è arrivato da Stationary Pal sono tutte cosine meravigliose e non vedo l'ora di continuare ad utilizzarle e vi farò vedere tuttissimo sempre su Instagram detto questo direi che adesso possiamo cambiare inquadratura così ci salutiamo quindi allora questo era il video unboxing di questo bellissimo pacco da Stationary Pal io li ringrazio di nuovo di cuore per questa collaborazione vi ricordo che in descrizione potete trovare il link al loro sito e il link diretto anche a tutte le cose che vi ho fatto vedere assieme anche al mio quasi sconto che è questo qui se ne volete soffrire tutti i dettagli qua sotto assieme anche ai miei social mi raccomando seguitemi per non perdervi tutti gli aggiornamenti e vedere tutte queste cose all'opera sul sito di Stationary Pal potete trovare tantissime cose a sconto e in offerta in occasione di questo Spring Sale quindi di questi sconti primaverili tante offerte e tanti nuovi prodotti quindi mi raccomando andate a dare un'occhiata se questo video poi vi è piaciuto mi raccomando mettete like commentate fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è stata la vostra parte preferita di questo video ed inoltre anche qual è stata la cosina che ho scelto che più vi è piaciuta e fatemi sapere anche nuove idee per nuovi video perché sono sempre ben accette iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e azionate tutte le notifiche per non perdervi i futuri video e io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao